L'aceto balsamico per un modenese è come il sangue che ti scorre nelle vene. Fa parte della nostra vita, della nostra storia, le nostre radici sono legate indissolubilmente all'aceto balsamico. L'uva raccolta quest'anno sarà fruibile piccola parte dell'aceto balsamico fra non meno di 25 anni. Qual è la parte del processo che mi piace di più? L'assaggio. L'uva raccolta quest'anno sarà fruibile piccola parte dell'aceto.